Se stai dando lavoro ad un immigrato senza permesso di soggiorno, oggi puoi legalizzare facilmente la tua e la sua posizione. Se non lo fai, commetti un reato. Ritira i moduli per la legalizzazione nei 14.000 uffici postali dove dovrai riconsegnarli compilati. Per informazioni visita i siti www.interno.it e www.minwelfare.it o chiama il numero verde 800 196 196.